Cremonini 2C, 2C the best. Uscirà venerdì questa raccolta del repertorio musicale di questo grande, grandissimo, immenso, eccelso cantante italiano. Ma cosa dico cantante? Azzardo a dire artista italiano. Un artista tutto tondo che nacque artisticamente parlando con il Luna Pop, questo gruppo musicale degli anni 90 se non erro e che si è andata a sviluppare sempre di più diventando unicum a livello musicale, ripeto nuovamente. 32 pezzi di repertorio, 32 hit, la musica la potremo apprezzare tutto tondo da parte di questo grande artista, di questa leggenda della musica italiana che piace, entusiasma e lascia il segno, in concreto e non in astratto. Cremonini 2C, 2C the best. Un vero e proprio viaggio nella musica del buon Cesare Cremonini che ha tanto da offrire a livello musicale, ripeto nuovamente, che è unicum a livello musicale, ripeto, ma è un grande protagonista della musica italiana. Complimenti al grande Cesare Cremonini, complimenti di Dico Cuore. Il video termina qua, complimenti ancora, un salutone al prossimo video.